Terra Mara, anticipazioni della prossima settimana. Zuleyya, rimasta sola alla villa dopo che Unkar si è sentita male ed è stata portata in ospedale, vede la possibilità di fuggire. Dopo aver avvisato un'amica del suo arrivo a Istanbul, prepara una valigia, prende gioielli e tutti i soldi contenuti nella cassaforte ed anche la pistola di Demir. Poi, preso in braccio il suo bambino, esce, non vista, dalla villa. Ma giunta al cancello della tenuta, i sorveglianti non vogliono farla passare senza permesso, allora Zuleyya li minaccia con la pistola. Quando alla villa la servitù si accorge della sua fuga, Ghaffur corre ad avvisare Demir che si trova da Dana. Demir corre a cercarla alla stazione degli autobus, ma quando vi arriva Zuleyya è già partita con quello diretto a Istanbul. Mentre Zuleyya è in viaggio si sente tranquilla. Il bus viene fermato dalla polizia, lei viene fatta scendere e trova Demir ad aspettarla. Lei lo supplica di lasciarla andare perché è innamorata di Ilmas. Allora Demir le fa togliere il bambino da un suo uomo e le dice che può andare dove vuole, ma senza Adnan, che è anche suo figlio, e rimane con lui. Zuleyya lo supplica di ridarglielo e di lasciarli andare via, ma Demir è irremovibile. Allora Zuleyya, disperata, estrae la pistola e se la punta alla tempia minacciando di uccidersi. Demir non cambia idea, anzi la incita a premere il grilletto dicendole spara pure. E Zuleyya lo fa, ma la pistola è scarica e lui lo sa. Zuleyya scoppia in lacrime e allora lui la fa salire in macchina per riportarla alla villa. Così finiscono queste piccole anticipazioni. Iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei nostri video.